News offerta da Giancarlo Colombo, Omega Fotocronache, Milano Sicuramente moltissimi trofei nella tua bacheca, due grandi campionati mondiali sui 3000 metri indoor, ma moltissimi altri trofei Finalmente qualcuno si è ricordato di me, sono ormai due anni che io non gareggio più e la FIDA alla Lombardia ha pensato bene di darmi un premio, ne sono felice sinceramente Senti, di tutte queste tue grandi vittorie, quali ricordi con maggiore positività? Sicuramente tutte, ma io sono convinto che qualcuna tra queste ti è rimasta nel cuore, nella mente o nello stomaco Sinceramente la gara che mi è rimasta più dentro sono i campionati europei indoor, vinti a Genova nel 92, era una gara molto particolare, c'era Stefano Mei, c'era Alessandro Lambuschini, c'era veramente tanta gente ed è stato il mio primo vero titolo assoluto Ricordiamo i tuoi primati, 800, 1.500 e 3.000 800, 1.45 e 85, nei 1.500 e 3.32 e 78, nei 3.7 e 39, nei 2.000 e 4.500 Grazie a tutti